Un incontro bello che ci riempie di gioia ed entusiasmo, una tappa nel cammino dell'unità tra fratelli. Questo è stato, secondo Papa Francesco, l'incontro nella chiesa pentecostale della riconciliazione a Caserta lunedì mattina con il pastore Giovanni Traettino, la sua comunità e circa 200 pentecostali venuti dall'Italia, dagli Stati Uniti ed anche dall'Argentina. Il pastore, amico dai tempi di Buenos Aires, lo ha accolto sottolineando che verso la sua persona, anche tra noi evangelici, c'è tanto affetto e tanti di noi, anche ogni giorno, non fregano per lei. Qualcuno sarà stupito, il Papa è andato dagli evangelici, ha detto Papa Francesco nel suo discorso, ma è andato a trovare i fratelli. Ha spiegato che la diversità non è divisione e che è lo Spirito Santo a fare la diversità nella chiesa, una diversità tanto ricca e tanto bella, ma poi lo stesso Spirito fa l'unità e così la chiesa è una nella diversità. Una diversità riconciliata dallo Spirito Santo, ha giunto il Papa citando un evangelico che io amo tanto, ha detto. L'ecumenismo è proprio cercare che questa diversità sia più armonizzata dallo Spirito e divenga unità. Papa Francesco ha poi chiesto perdono come pastore dei cattolici per le leggi emanate nel passato contro i protestanti, in quanto furono sostenute anche da cattolici, ed ha sottolineato quanto sia importante camminare alla presenza di Gesù. Signore, ha pazienza, ha pazienza del popolo che cammina. Io non capisco, un cristiano fermo, un cristiano che non cammini. Non capisco, un cristiano deve camminare. Grazie. 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 Grazie.